La Rarinantes Imperia festeggia la riapertura della piscina comunale con un pomeriggio di festa alla Felice Cascione. L'appuntamento è per domani e lo sport sarà il protagonista assoluto. Alle 14.30 cominceranno i giovani esordienti A e B che si contenderanno la quarta prova regionale di nuoto. Tante le gare in programma, ancor più gli atleti provenienti da tutto il ponente Ligure. Finite le gare, lo spazio sarà per la partita di pallanuoto serie C maschile con la sfida che vede la Rarinantes Imperia contro il SAFA 2000 Torino. Il fischio d'inizio inizialmente previsto per le 17 e è stato spostato alle 18.30 per evitare l'accavallamento degli eventi. I ragazzi di Pisano tornano alla Cascione in gare ufficiali e cercano la terza vittoria consecutiva in campionato. La giornata si concluderà con un aperitivo per tutti.